Beato chissò falso fa! A volte offensiva, spesso fuori luogo, quasi sempre fastidiosa e criticata. Eppure, la figura del testimonial, pur essendo ormai obsoleta e abusata, soprattutto nell'era dei social network, pare ancora dura a morire. O perlomeno è questa l'idea che ci si fa guardando le ultime tendenze dell'advertising italiano, che, attratto dalle sirene del vincere facile, il più delle volte dilapida enormi budget, ottenendo risultati, a dir poco, imbarazzanti. Un volto famoso preso a caso non può sostituirsi ad un marchio, né aggiungervi valore. È per questo che abbiamo deciso di sostenere la campagna di Brand Forum Italia, Basta Testimonial. Noi di Scegli Green vorremmo che la pubblicità tornasse a fare il suo lavoro, comunicare. Vorremmo che i pubblicitari italiani si spremessero le meningi e tornassero a fare i creativi, colmando le norme di vario che separa le nostre agenzie da quelle degli altri paesi. Se è vero che i mercati sono conversazioni, è giusto che la parola torni a chi i mercati li anima da sempre. Noi Siamo noi, gli utenti finali, quelli che conoscono un prodotto meglio di chiunque altro. Siamo noi che li utilizziamo veramente. Siamo noi, il mezzo di comunicazione più potente. Basta con gli sprechi di denaro. Basta con i messaggi ingannevoli. Vogliamo una pubblicità nuova, creativa, coinvolgente. Basta Testimonial. Basta con i messaggi ingannevoli.